Buonasera, mi chiamo Matteo Trentin, sono a Tosquio in provincia di Vicenza il 4 febbraio del 1996 e sono un artista visivo. Sempre interessato alle scienze umane, alla musica, alla pittura e al disegno, ma ben consapevole non possedere quelle cognizioni di base che mi avrebbero permesso di portare avanti una ricerca artistica, con particolare attenzione all'introspezione e in generale alla psicologia umana, mi sono iscritto presso il liceo delle scienze umane e della mia città, appunto, secondo il quale ho frequentato il corso di pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Verona, Aula Giovanni Morbinna. Qui ho iniziato a sviluppare inizialmente in un approccio pittorico di matrice espressionista che non avrei mai abbandonato, ma che, sul finire il percorso accademico, avrebbe sempre più lasciato spazio in un approccio performativo, processuale e relazionale, oltre che mello, e particolarmente vicino alla pratica di isperazione.